Qui vi presentiamo le 5 migliori epilatore Bikini Iniziamo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Imetec Bellissima Bikini Beauty Express Rasoio Elettrico e Rifinitore. È un rasoio elettrico e anche un trimmer di precisione per la depilazione intima dell'area costumi da bagno. Pratico, fragile e veloce, ti consente di avere prontamente una pelle liscia e morbida. Entrambe le teste fornite rasoio elettrico e precisione consentono di depilato con precisione e disegnare i contorni della posizione del costume da bagno, delle aste e delle sopracciglia senza correre il rischio di irritare la pelle. Con i pettingi distanziale puoi decidere di ridurre e anche regolare i capelli per renderli uniformi e ordinati. Passando al numero 4. Vensensitive Precision Beauty Stealer Bikini Edition. È appositamente creato per garantire un'azione delicata sui luoghi più sensibili del corpo, come l'area del costume da bagno e le aste. Le lame non toccano direttamente la pelle, quindi non c'è alcuna minaccia di ridurre da solo. Viene fornito completo di un accessorio speciale per uno stile specifico. Ideale anche per ritocchi in media. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Rifinitore FG 1100 Silk E-Pil 3 in uno trimmer. Rifinitore. È un rasoio trimmer alimentato a batteria specificamente per la progettazione di sopracciglia, viso e inguine e consente anche linee esatte, forme e contorni. Dotato di una testa di precisione, ti consente di ottenere il risultato desiderato in modo rapido e anche conveniente. È possibile cambiare i capelli a una dimensione costante di 5 o 8 mm grazie a entrambi i pettingi da taglio. Viene utilizzato come una matita, per sviluppare innumerevoli... Realizzata per le posizioni delicate del corpo e anche per la linea di costumi da bagno. Questa punta arrotondata è composta da 3 accessori, un pettine irregolabile a 3 lunghezze 2, 6 mm, un mini rasoio ipoallergenico con tecnologia nano silver per un taglio delicato e un pennello esfoliante per la posizione del costume da bagno. Utilizzato in modo coerente, elimina gli strati non bisognosi della pelle, evitando lo sviluppo di peli incarniti. Immune all'acqua, può anche essere utilizzato sulla pelle bagnata. E infine il numero 1 della nostra lista. Panasonic S2113 P503 Utilizza una testa morbida che segue delicatamente i contorni tutto naturali del viso. È arredato con una lama ipoallergenica di lunga durata in acciaio inossidabile la sua idea arrotondata che non scatena alcuna irritazione ed è allo stesso modo appropriata per la pelle più sensibile. Il resoconto ergonomico dell'utensile si adatta facilmente alla forma di qualsiasi tipo di mano, garantendo un controllo completo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.